Allora, benvenuti a tutti, sono felicissimo di essere con voi dal vivo, ho fatto questo talk, ho presentato altre volte online, ma farlo davanti a altre persone è tutta un'altra esperienza, quindi grazie di essere qui. Allora, in questo talk parleremo di Django con alcune caratteristiche molto interessanti di Postgres. In realtà Django supporta vari back-end database e tenta di supportare più caratteristiche possibili di questi database, tuttavia non tutti i database supportati da Django sono uguali. Immagino che conoscete tutti Django Reinhard, da cui è tratto il nome di Django del framework, il framework web cerca di essere indipendente dai database, ma purtroppo i progetti che costruiamo con Django molte volte non lo sono, abbiamo bisogno di alcune caratteristiche e quindi abbiamo bisogno di un particolare database. Postgres ha il set di funzionalità più ricco di qualsiasi altro database che potete utilizzare con Django. In questo talk vedremo alcune delle caratteristiche specifiche che solitamente non trovate negli altri database. database. Prima di andare avanti vorrei specificare questa cosa che è fondamentale. Io non sono un amministratore di database, sono semplicemente un utilizzatore, lo utilizzo in tanti progetti, quindi vi darò un punto di vista da sviluppatore. Quindi non sono un database administrator, sono il sito di 20tab, sono un software engineer, sono un sviluppatore Python da tantissimo tempo e dopo un po' di tempo di utilizzo di framework web con Python ho iniziato ad usare Django e poi ho provato anche a contribuire, ho iniziato a fare contributi nel codice. E come dicevo prima sono un utente Postgres da un sacco di tempo in vari progetti, in vari linguaggi. Per iniziare direi creiamo uno di questi progetti Django per utilizzare Postgres e vediamo come farlo fin dai primi passaggi. Allora, come al solito abbiamo bisogno di una versione stabile di Python, in questo caso l'ultima da 3.10 e creeremo un ambiente virtuale col standard library venv sul nostro ambiente di lavoro e andiamo a installare l'ultima versione stabile di Django, in questo caso la versione 4. Con installata Django possiamo creare nella nostra cartella di progetto un primo progetto utilizzando il comando start project che insomma per noi creerà tutti i file che abbiamo bisogno nel nostro progetto. Penso che molti di voi conoscano questa immagine del piccolo principe, avete appena visto il keynote di PsychoPG e credo che l'immagine che Daniele ha usata nel suo account è molto significativa, c'è un serpente con un elfante dentro, quindi Python con dentro la potenza di Postgres e è molto interessante conoscere anche un po' di più quello che ci diceva Daniele prima sul PsychoPG, il progetto PsychoPG è open source, è partito da un sacco di tempo da versione 1 e Django se andate a scavare nel suo codice ha iniziato a supportare PsychoPG 1 e per passare poi quasi subito a Django 1.0 alla versione 2. 2 negli anni quindi sono state aggiunte un sacco di cose nuove su PsychoPG e quindi di riflesso anche nel driver di Django, non ultime la versione PsychoPG 3 di cui parlava Daniele che è stata rilasciata pochi mesi fa. PsychoPG quindi è un wrapper per la libreria C di Postgres e per sviluppare, io di solito sono su un sistema Debian quindi utilizzo APT per installare le librerie di supporto LibPQ. Potete trovare nella documentazione come installarle nel vostro sistema operativo. Per la maggior parte dei sistemi operativi dopo aver soddisfatto le dipendenze il modo più facile di usare proprio PyPy quindi PIP e installarlo direttamente dal repository. Questa è la versione PsychoPG 2 che è ancora l'unica ufficialmente supportata da Django. C'è una pull request in corso che prima ho anche linkato su Twitter. Se siete interessati a contribuire o a capire come si sta creando questo nuovo driver per PsychoPG 3 potete trovarlo online. Quindi è il momento vediamo come modificare la nostra configurazione dei database per usare l'engine di PsychoPG esatto. Fino a poco tempo fa c'era un alias che era Postgres underscore PsychoPG 2, adesso è rimasto solo questo perché l'unico supportato è quello. Metteremo qui le informazioni di connessione al nostro database che possono essere connessioni di bilocale o remoto, quello che volete, del solito il nome, la password eccetera. Se però utilizzate la metodologia dwell factor e quindi volete fornire tutte quelle chiavi in un'unica variabile utilizzando per esempio la database URL potete farlo o utilizzando Django Database URL o Django Configuration che ha la dipendenza per la prima. è molto più lineare e potete fornire in maniera molto più comoda con una sola riga e è comoda anche negli ambienti remoti e nel continuous integration in questi ambiti. Solitamente io preferisco fornire direttamente in questa modalità ma la prima è totalmente legittima. Allora passiamo a vedere in azione. Abbiamo installato Django, abbiamo creato il progetto, abbiamo installato PsychoPG, usiamo la sezione della documentazione di Django che parla di queries per iniziare a fare qualche query da Django al nostro database. Utilizziamo nella sezione dei machine queries due modelli, sono un autore con una entry e sono pochi campi che possiamo utilizzare per fare ricerche e filtri all'interno. Questo è un esempio di query fatta con l'ORM di Django, penso che molti di voi hanno utilizzato nei loro progetti, c'è un problema. Questo tipo di sintassi possiamo usarla con tutti i database. Funziona anche con Postgres, però non c'è nulla di nuovo. È stato questo un po' il punto di inizio di un progetto che era quello del modulo specifico di Postgres per Django. Nel 2014 Mark Temel, uno sviluppatore Django del Django Core inglese, ha creato una campagna crowdfunding per sviluppare e farsi finanziare questo nuovo modulo, proprio per sfruttare tutte quelle caratteristiche che nell'ORM di Django non erano supportate e non erano specifiche per Postgres. La campagna ebbe un grosso successo e il contributo al codice fu mergiato in Django 1.8. Il modulo adesso contiene un sacco di campi, indici, funzioni specifiche, estensioni per Postgres e negli anni sono state aggiunte un sacco di funzioni. Come vedete nel corso degli anni adesso non è più mantenuto da una persona sola, ma chiunque può contribuire al codice Django e inserire nuove funzionalità. Una di queste l'ho aggiunta io che è quella da Random UID nel 2017. E comunque stiamo andando avanti. Una cosa interessante è che questo modulo è stato il primo a supportare per esempio campi JSON che poi sono stati portati ufficialmente in tutto l'ORM, in Django 3.1, quindi 5 anni dopo l'introduzione in questo modulo. Quindi per 5 anni l'unico modo per utilizzare JSON field in una maniera nativa era utilizzare Postgres con questo modulo. Per utilizzare quindi il modulo Postgres è sufficiente aggiungere il suo percorso nelle installe d'apps del nostro progetto Django. Nulla di più semplice. Ho scattato questa foto nel Django con Europe 2017 a Firenze durante gli Spring Day. In questa occasione ho lavorato proprio sul modulo che citavo prima che voleva portare all'interno dell'ORM di Django l'utilizzo di una funzione del Random UID di Postgres specifica. Ho voluto scattare questa foto perché Mark Tamil che era il creatore iniziale di quel modulo era lì e mi ha aiutato insomma a fixare la mia pull request, correggere gli errori insieme a Marcus che è l'altro sviluppatore. Abbiamo alla fine emergiato in Django 2.0 quella funzionalità. Semplicemente per dire che è stato molto molto incoraggiante avere il feedback di sviluppatori core e chiunque di voi abbia in mente un'idea per quanto piccola può provare a proporla e solitamente c'è sempre qualcuno di molto accogliente che vi aiuterà e che magari conosce benissimo come funziona il mondo Django all'interno. Vi parlo brevemente quindi di questa funzionalità perché è una caratteristica che trovate solo utilizzando il back-end di Postgres e non in altri. Il Random UID è una funzione di Postgres che è contenuta nel modulo PG Crypto e fornisce funzioni criptografiche per Postgres. In Django potete installarlo utilizzando l'estensione Crypto Extension e da Postgres 13, quindi se avete Postgres 13 nel vostro stack del progetto la funzione in realtà è stata inserita, portata direttamente nel core di Postgres non avete più bisogno nemmeno dell'estensione. La vediamo un attimo in azione e in questo caso per provare a vedere come funziona ho aggiunto un campo UID Field nel nostro model che abbiamo visto prima di Entry utilizzando come default il modulo Python di UID e quindi generando come default uno UID di tipo 4. ho passato la funzione, non un'ustanza della funzione perché ad ogni invocazione venga proprio chiamato UID 4 e venga generato un nuovo modulo. Usando la funzione per Postgres che quindi trovate dentro Django adesso potete invocare e quindi aggiornare in un colpo solo tutte le occorrenze che vi servono a generare randomicamente, a demandare a Postgres la generazione di UID per tutte le occorrenze del vostro database. Quello è il codice che viene generato sotto il cofano in SQL e in un progetto per esempio che ho utilizzato ho generato in un colpo solo per un milione di righe, una colonna nuova, in circa 30 secondi un milione di record UID. Ciclare in Python sopra tutte queste occorrenze sarebbe stato molto molto più lento molto meno anche sicuro. Abbiamo un'altra foto, altra caratteristica di Django e Postgres di cui voglio parlarvi e Europeiton 2017, scusate a Rimini, si creavano sprint spontanei su Django proposi di lavorare sul progetto Django Project, in particolare sul sito web di Django. All'epoca avevo appena creato il mio primo talk sulla ricerca full text mi accorsi che però il sito stesso di Django non utilizzava quel modulo di ricerca full text bensì demandava Elastic la ricerca sul sito. Nulla di male nell'usare Elastic se non che il sito usava già Postgres come storage e quindi proposi di togliere di mezzo un elemento in più dell'architettura utilizzando solo Django e Postgres si poteva realizzare la stessa funzionalità di ricerca full text sul portale e avere le stesse caratteristiche. Salto i dettagli di implementazione perché ho parlato della ricerca full text un sacco di volte vi dico soltanto che in Postgres potete fare tutti i tipi di ricerche che volete ci sono espressioni e funzioni specifiche, potete fare ricerche ottimizzandole con degli indici GN o GST potete utilizzare ricerche parziali su frasi, la sintassi web con gli operatori booleani e cose di questo tipo. Avendo installato prima nell'install ed apps il modulo di Postgres possiamo in un colpo solo utilizzare il lookup search su un campo passando una stringa e vedete la sintassi del codice quello è il prodotto da Postgres in cui facciamo effettivamente una ricerca full text sul campo headline passando una stringa. È comodo se dovete fare una ricerca su un campo solo senza troppe specifiche però per velocizzare da un lato la ricerca e anche per fare i query un po' più complesse utilizziamo il campo search vector lo aggiungiamo nel modello entry e come vedete sotto applichiamo anche un indice su di esso proprio per velocizzare la ricerca qui vedete in azione degli indici funzionali che sono un'aggiunta di Django 3.2 però gli indici di tipo jn sono un'esclusiva di Postgres dopo aver fatto questa modifica possiamo eseguire una query usando magari una sintassi come quella che vedete da sopra booleana con in alternativa una ricerca sulla pizza per avere prosciutto tonno ma non ananas assolutamente e possiamo utilizzare il document creato con la search query per annotare e ricercare nel nostro entry e questo ci dà una ricerca come vedete sotto rispetto a prima un po' più complessa definiamo anche in che lingua vogliamo fare la ricerca abbiamo tutta una serie infinita di possibilità per utilizzare la ricerca full text nel nostro sistema con questa foto ci spostiamo un po' in un luogo più freddo adesso fa caldo qui siamo in Norvegia e ho scattato questa foto perché mi ero rimasto molto colpito dall'allineamento di tutte queste case con i loro colori che cambiavano come se fossero tanti dati diversi in un lungo array ed è proprio per parlare degli array field che ho messo in questa foto gli array field in Postgres sono molto utili vi permettono di archiviare dati di tipo array senza creare un nuovo modello senza quindi creare sovrastrutture o nuove tabelle sul database bisogna specificare un campo di base fatto da questo array e si può specificare anche la dimensione per array multidimensionali per esempio possiamo voler creare un campo di tipo array field che contiene tutta una serie di email invece di creare un modello nuovo collegato ad un autore ognuno metterà un email in questo caso avremo un campo che li memorizza in maniera separata quindi dopo aver aggiunto il nostro modello possiamo interrogare gli autori alla ricerca di una delle email contenute nell'istanza e il contenuto viene rappresentato come un elenco come vedete nella query di risposta sotto la sintassi che abbiamo utilizzato è quella specifica di Postgres per interrogare gli array e fare confronti di questo tipo sono un esempio ci sono modalità molto più complesse ci sono anche array multidimensionali nell'ultima versione di Postgres un neo di questi array field sono che nell'admin in maniera standard sono rappresentati come campi di input con valori separati da virgola che si possono anche tranquillamente utilizzare però con questo pacchetto aggiuntivo potete visualizzare ogni occorrenza del vostro array field come un campo separato in maniera dinamica è un po' più facile da far utilizzare gli utenti finali se questo è il vostro obiettivo saltiamo dall'altra parte del mondo qui siamo a San Francisco e ho scattato questa foto in California perché il prossimo pacchetto di cui parliamo è fornito dalla California Civic Data Coalition che è una rete open source di giornalisti il pacchetto di cui vi parlo è Django Postgres Copy che è molto utile per importare velocemente dati in Postgres attraverso Django da file o dalle tabelle in un file quindi abbiamo il comando copy to e copy from che fanno proprio questo lavoro Django Postgres Copy crea anche delle tabelle temporanee per fare operazioni prima di fare lo storage finale sul nostro database per utilizzarlo andiamo a creare in questo caso un modello ad hoc utilizzeremo per questo benchmark di esempio i dati presi da OpenStreetMap in particolare i nomi geografici che potete scaricare liberamente e quindi abbiamo creato un modello che ha un field, un campo per ognuno di quelli i dati contenuti nel CSV che andremo a vedere e dobbiamo semplicemente specificare il manager specifico di Postgres Copy il file che prendiamo in esame contiene tutti i nomi geografici d'Italia è circa 200 megabyte potete scaricarlo anche voi è molto utile in tanti progetti per fare il reverse degli indirizzi in un punto sulla mappa per caricarlo semplicemente dobbiamo specificare al from CSV il path del file CSV che abbiamo sul nostro computer in questo esempio abbiamo caricato un milione di record in poco più di 3 secondi e queste sono tempistiche sul mio laptop quindi su un server molto più potente le tempistiche sono molto più veloci sotto il cofano Django Postgres Copy esegue diverse istruzioni come vi dicevo prima viene creata una tabella temporanea viene copiato effettivamente il file CSV dentro la tabella temporanea e questo viene fatto in circa 2 secondi nell'esempio poi vengono inseriti i dati della tabella temporanea nella nostra tabella effettiva del nostro modello e alla fine viene cancellato la tabella temporanea iniziale abbiamo fatto quindi un'altra prova di caricamento avendo compresso il file inizialmente che era di 200 megabyte l'abbiamo ridotto a 41 megabyte e la cosa bella è che l'abbiamo potuto dare in pasto direttamente a Django Postgres Copy quindi senza necessità di decomprimerlo e poi cancellarlo alla fine e come vedete le tempistiche di caricamento sono rimaste invariate anzi sono un po' più veloci in questo caso sono 3 secondi per quasi un milione di record che direi è una velocità abbastanza interessante e impressionante torniamo un po' più vicino a casa qui siamo in Abruzzo è una foto scattata in mezzo al parco nazionale abbiamo degli alberi è una scusa per parlare di di alberi in Postgres utilizzando il modulo Django L3 è una estensione per supportare i dati gerarchici utilizzando l'estensione nativa di Postgres ed è un'alternativa più performante e semplice di altri pacchetti che utilizzano iPad materializzati che sono magari multi back-end a volte sono un po' più documentati e facili da utilizzare ma questo è molto più veloce perché sfrutta in maniera nativa Postgres per aggiungere la gerarchia di un albero a un entry ereditiamo dal modello tree model che aggiunge implicitamente un campo di tipo path e come vedete sotto aggiungiamo anche un indice di tipo GST specifico di Postgres sul campo che abbiamo creato qui non lo vedete descritto perché è all'interno del tree model questa è una rappresentazione ad albero della struttura gerarchica di un esempio di path gerarchici è la stessa che poi trovate sulla documentazione di L3 sulla documentazione di Postgres funziona in maniera trasparente da Postgres a Django grazie al nostro pacchetto qui stiamo facendo un esempio di query gerarchica per filtrare tutti i modelli contenuti in un particolare percorso quindi poi li ordiniamo come vedete con l'order by e estraiamo tutti i sottopercorsi per quanto sia un po' più complessa la query con il nostro query set il risultante sarà quello che sfrutta la sintassi nativa di Postgres al tree e grazie all'indice di prima la query risultante sarà molto molto veloce ok con questa foto che ho spammato un po' ovunque su articoli e talk andiamo a parlare di mappe di mappe con Django perché voglio non parlarvi estensivamente del modulo ho fatto altri talk al riguardo ma per parlarvi del modulo geografico di Postgres che possiamo sfruttare in maniera in Django non è l'ultimo di cui voglio parlare anche perché è uno dei più interessanti PostGIS è quindi un'estensione di Postgres estensione geografica è il migliore back end per Django che potete utilizzare ha tipi di dati spaziali indici specifici e funzioni ho creato questa tabella comparativa perché se andate nella documentazione di Django ci sono presenti tre tabelle di compatibilità tra GeoDjango e il database back end che potete utilizzare da Specialite Oracle MySQL eccetera e PostGIS è il modulo che implementa il 100% delle funzionalità di GeoDjango un motivo in più magari per utilizzarlo ma soprattutto se già avete Postgres il nostro stack è rincuorante sapere che potete sfruttare tutte le funzionalità di GeoDjango ci sono moltissime altre funzionalità specifiche di Postgres che si possono sfruttare per brevità non l'ho messo nel mio talk ci sono molti indici specifici anche nuovi che vengono inseriti in Postgres e quindi in Django ci sono le funzioni di aggregazione l'estensione Trigram che in alternativa alla Full Text Search vi permette di fare ricerche per stringhe simili o anche in parallelo con la Full Text Search ci sono anche i campi più specifici tipo i campi Range Field ci sono i campi case insensitive e un sacco di altre funzionalità prima di salutarvi alcuni consigli che ho raccolto utilizzando Django e Postgres insieme in questi anni la prima cosa è leggere la documentazione di Django perché nella documentazione dell'ORM in particolare in quella del modulo per Postgres ci sono un sacco di consigli e esempi molto molto utili che vi possono servire nel vostro progetto reale per alcuni dettagli vi consiglio di leggere la documentazione di Postgres direttamente perché la sintassi che vedete generata nelle vostre query SQL potete confrontarla con quello che vi aspettate e potete scoprire come sfruttare ancora meglio il vostro database e a volte mi è capitato e vi consiglio di farlo anche a voi la cosa migliore per scovare dei dettagli e leggere il codice sorgente quindi su Github trovate il codice sorgente di Django e di Postgres e l'ultimo consiglio che vi do è quello di andare su Stack Overflow per leggere le domande non le risposte è un metodo che consiglio a tutti quanti a volte quando ho bisogno di imparare qualcosa su un argomento per esempio sull'ORM mi servono più le domande che le risposte voglio casi strani anomalie provare a rispondere a queste domande da soli vi farà fare il salto di qualità vi farà trovare delle soluzioni che poi utilizzerete un giorno nel vostro progetto perché le domande che fanno gli altri sono i problemi che avrete voi domani insomma nel lavoro di tutti i giorni come ultimo studio potete anche studiare questa slide che condividerò già adesso alla fine del progetto sono condivise con licenza open source come diceva prima Daniele vi invito se siete interessati a Postgres e a Django ad andare a studiare un po' Pseco PG3 le novità che ci sono e anche vedere la pull request aperta per raggiungere il supporto a Pseco PG3 direttamente in Django e come ho detto prima anche nel keynote il 20sab per quale lavoro ha supportato lo sviluppo di Pseco PG3 facciamo un sacco di lavori parliamo anche in articoli di lavori con Django e Postgres quindi se siete interessati trovate qui i contatti e in ultimo per gli articoli di cui vi parlavo prima ma proprio per queste slide se siete interessati potete tramite i miei contatti trovarle online grazie a tutti grazie a tutti allora c'è una domanda ok come si comporta l'implementazione del full text search integrato in Postgres e SQL rispetto a Solr o Lusin o roba di questo tipo allora come dicevo prima elastico Solr sono basati su Apache Lusin che è un ottimo engine per ricerca full text che consiglio di usare molte volte soprattutto quando non avete già Postgres nel vostro stack oppure quando magari dovete aggregare dati da più fonti da più progetti uno ha MySQL uno ha MySQL uno ha SQLite l'altro ha Postgres per avere un accordo centrale io vi consiglio di usare queste engine perché sono ottimi e il punto è che se avete già Postgres il modulo full text search di Postgres ha già delle performance equiparabili delle funzionalità come il multilingua e altre cose che soddisfano io direi il 99% delle vostre casistiche se poi siete big company oppure avete dei progetti molto grandi vi auguro di avere progetti di milioni miliardi di query al secondo a quel punto magari Postgres può mostrare i suoi limiti e vi conviene andare su qualcosa di più articolato ma a quel punto avrete bisogno di insomma di un'architettura molto molto più complessa per piccoli progetti anche medi progetti non trovo un limite nell'utilizzare Postgres e il suo modulo di ricerca full text ok qualche altra domanda c'era in sala no va bene se non ci sono domande chiedo a Santino di venire qua per la foto di rito con tutti quanti ecco qua di nuovo grazie a tutti fatto grazie